Cari amici di Radio Puggini e On Air, grandi ospiti stasera a Di Martedì ed ora è il momento di Michele Santoro, vi stiamo facendo la radiocronaca raccontando in diretta i momenti salienti. Ora ecco il nostro commento per chi non può seguirlo in diretta ma vuole delle anticipazioni molto succulente su cosa dirà stasera Michele Santoro a Di Martedì e su cosa sta dicendo ora in diretta e noi ve lo racconteremo naturalmente. Ma ecco che saluta Michele Santoro che subentra dopo Pierluigi Bersani che vi abbiamo raccontato e domanda Giovanni Floris, ecco una prima domanda molto semplice, ossia da Michele Santoro da dove vuoi partire? Michele Santoro risponde che vorrebbe partire da questa favola che Bersani ogni volta racconta in maniera rassicurante del principe azzurro centro-sinistra che ancora non è arrivato ma che poi ad un certo punto arriverà. E qui l'applauso del pubblico dice Santoro di chiedersi fino a che punto con quali valori perché i nostri telegiornali non ci informano come ben sappiamo almeno quelli della RAI che dovrebbero farlo per obbligo perché per certo servizio pubblico. Sul fatto per esempio dice Michele Santoro che il Parlamento europeo ha discusso una mozione che è stata approvata dal Partito Democratico nella quale mozione si chiede praticamente di prolungare la guerra tra l'Ucraina e la Russia fino a quando l'Ucraina non avrà riconquistato completamente i territori compresi la Crimea e di fornire all'Ucraina tutto ciò che è necessario, armi, munizioni, bombe, qualunque tipo di arma possa essere utile al raggiungimento di questo scopo. E dice Michele Santoro include anche di innalzare la spesa militare per raggiungere questo scopo. Questa è una mozione che è stata approvata con la partecipazione del Partito Democratico. E si chiede ancora Santoro come li vogliamo affrontare questi problemi degli italiani, in che modo senza mettere in discussione il sistema di guerra nel quale viviamo intrappolati. Allora chiede Giovanni Floris non ti porre la domanda come li vogliamo affrontare, poniti la domanda con chi li vuoi affrontare, allora li vuoi affrontare col PD o con la Lega. Dice Santoro io innanzitutto lo vorrei affrontare con la mia Europa e se l'Europa ha deliberato una cosa del genere vuol dire che l'Europa in questo momento si sta suicidando. Cioè si sta addirittura riducendo a chiedere agli americani guardate voi che in questo momento avete qualche dubbio su quello che sta succedendo e state valutando se mandare queste altre decine di miliardi di aiuti in armi all'Ucraina. No, non dovete stare lì a pensarci, queste armi le dovete mandare. Quindi qual è il ruolo? Io mi devo rivolgere, dice Santoro, all'unica forza che in questo momento in maniera spiritualmente forte ha il coraggio di dire questo massacro deve finire. Mi devo rivolgere a Papa Francesco perché è l'unica vera alternativa che c'è di fronte a noi. Dice sentiamolo Papa Francesco, Floris ha scioccato l'intervista che è stata fatta ed ecco che stiamo trasmettendo uno stralcio di questa intervista. Vi posso ripetere alcune parole che ha detto il Papa, ossia è un'interpretazione riguardo al fatto della resa che sia legittimare allora chi è più forte. Però dice il Papa, credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca. Non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggio. Questo dice il Papa, si torna in studio e dice Michele Santoro, dice ma quale scandalo, ha detto la cosa più giusta che si può dire in questo momento. Innanzitutto c'è anche una grave deformazione del pensiero del Papa, perché il Papa quello che ha detto quando si riferisce alla bandiera bianca, non si riferisce alla resa di una delle due parti, ma si riferisce al fatto che i due contendenti, soprattutto il più forte, chiarisce lui, deve avere il coraggio di alzare quella bandiera bianca che si alza quando ci si incontra per negoziare. E se noi non usciamo da questa guerra, le condizioni di vita dei lavoratori europei saranno disastrose. E la previsione che si fa è invece di farci rimanere in questa guerra per altri dieci anni. Ma scusa, lasciami dire un'ultima cosa, dice Michele Santoro, in questa mozione si usa nei confronti della Russia il termine genocidio. Genocidio tenendo conto del fatto che la Russia fino a questo momento ha fatto una cosa comunque orribile, 20.000 civili come vittime in due anni di guerra. In questo momento lo Stato di Israele ne ha fatti 32.000 di vittime. Dice Santoro, è chiaro, nemmeno io la uso la parola genocidio, ma mi chiedo come funziona allora questa doppia velocità. Dice Floris, certo io credo che il Papa insomma indirizzi verso dei principi, questo è il ruolo del Papa. Ma tu, dice Michele Santoro Floris, puoi indirizzare il mondo verso i tuoi principi oppure vuoi fare qualcosa perché si arrivi alla pace? Perché se vuoi fare qualcosa, come sai ne devi parlare, perché non credo che Giorgia Meloni sia d'accordo con te. Ma dice Santoro, la cosa che vorrei fare è uscire da questo dibattito un po' stucchevole che in Italia il primo problema che ci dobbiamo porre è tra fascismo e antifascismo. Il primo problema che ci dobbiamo porre è la guerra, non è il fascismo l'antifascismo, il primo problema è questo e le nostre istituzioni non sono in pericolo. Dice Santoro, certo ci sono questi buzzurri che si esprimono in questa maniera volgare che fa pensare ai toni del passato, ma non vedo pericoli per le nostre istituzioni in questo momento. Ma dice Floris, non le istituzioni pensiero del paese, ma continua Santoro mentre vedo un pericolo enorme nel fatto che l'Europa possa essere cancellata dalla scena geopolitica mondiale. Vedo un pericolo mostruoso nel fatto che mandiamo le navi noi nel Mar Rosso perché gli uti minacciano le rotte mercantili. I uti, un momento, abbiamo il coraggio di dirlo, stanno intervenendo contro navi, va bene che dice Santoro, commerciano con lo Stato di Israele e non hanno preso di mira fino a questo momento mercantili italiani. Ora, se noi ci mettiamo, dice Santoro, ci mettiamo a capo, sia pure tatticamente, di una spedizione militare che comprende inglesi e americani, noi a voia, io quando sento parlare, dice Santoro, i politici italiani, anche quelli della parte diversa, dalla Meloni, che invece questi dubbi non li propone, bene, io non li sento dire che in questo momento lo Stato di Israele si deve fermare. Noi non siamo militarmente d'accordo con lo Stato di Israele, allora se loro non lo dicono questo, scusami un attimo, dice a Giovanni Floris, quando io vado a collocarmi in quella posizione con delle navi militari, io sono di fatto, sto agendo di fatto accanto allo Stato di Israele. e in qualche maniera sono complice del massacro che sta facendo. Dice Floris, però io ti rivolto la questione, mentre noi parliamo di altre cose succede questo, io ti dico, mentre tu parli di questo succedono altre cose. E che cosa succede, dice Santoro? Intanto che la Meloni vince le elezioni in Abruzzo. Allora, dice Floris, però parliamone, me lo devi far dire, no? E quindi dice Floris, non è solo l'Abruzzo, ma tante cose, succede che il ministro della cultura, un ministro... Però dice, parliamone una volta, facciamo tutto l'elenco delle cose, Santoro, insomma, un piccolo dibattito fra loro. E alla fine dice, Santoro, due settimane fa sono venuto qui e ho detto, un momento, guardate un attimo i dati. I dati non ci dicono di una grande avanzata del centro-sinistra, ma ci dicono che il centro-sinistra è stato più abile nell'individuare un candidato vincente, ma se vai a vedere i voti, la società sarda comunque ha votato prevalentemente a destra. E comunque quello che sta succedendo di grave nella nostra realtà è che metà della società sarda non ha votato e in maniera crescente non ha votato, nonostante avesse ben tre candidati forti, dice Santoro. Quello che è successo anche in Abruzzo, nonostante per la prima volta tutti i giornali italiani, tutte le televisioni ci abbiano invaso d'Abruzzo, dice, con tutto il rispetto per quella regione, ma della quale non gli era mai importato granché a nessuno, ora invece è diventato in questo momento il centro del mondo, improvvisamente l'Abruzzo, e nonostante questo la metà degli abruzzesi non è andato a votare. E' qui il pericolo per la democrazia che io vedo nella gente che non partecipa, dice Michele Santoro. Perché non vota? Perché non vanno a votare? La domanda è lì, dice, perché pensano che poi alla fine le cose che possono cambiare sono molto poche, perché la crisi della sanità è cominciata prima del governo di Marsilio in quella regione. E quindi a questo punto questo nuovo candidato prometteva di metterci riparo. Che succede? Che la gente dice, no, ma io non lo so se questi ce la faranno a mettere riparo, visto che hanno cominciato loro a smantellare quello che c'era da smantellare. O che non c'era da smantellare. Quindi che cosa faccio? Io mi tengo quelli che mi appaiono i più forti, perché così in qualche maniera magari mi arrangio personalmente. Non ti viene da dire, allora cerchiamo di apparire più forti noi, dice Floris. Risponde Santoro, questa è una cosa che è cominciata con Prodi, che la forza è ammucchiare quanta più gente possibile, no? La forza innanzitutto è la forza delle idee, del cambiamento che tu vuoi portare in una realtà. Ma questa forza delle idee non le puoi manifestare, dice Santoro, le tue idee senza... Dice, ma perché gli altri possono stare separati e l'unico che non può stare separato sono io che sono arrivato adesso? Praticamente perché Giovanni Floris lo interrompe dicendo, ma se gli altri sono uniti e anche se hanno poche idee o hanno delle idee sbagliate, vincono. E quindi dice Santoro, tutti separati. Adesso siccome arrivo io che sono... Divento l'unico separato che deve essere cancellato dalla faccia dell'umanità. No, un attimo, un po' di pazienza. Voglio dire, dice Santoro, non è facendo la somma degli addendi che arrivi al risultato. Ci arrivi quando hai finalmente una visione forte e una visione comune. Ma come ci può essere una visione comune se stanno aggirandosi nelle rovine di Gaza dei bambini che muoiono di fame? E noi, dice Michele Santoro, quello che facciamo è una petizione contro. Ma dice Floris, però non può che non esserci un compromesso, una mediazione. E dice, Santoro, ma compromesso su che cosa? Anche sulla guerra dobbiamo avere un compromesso. Le guerre o si fanno o non si fanno. Per me le guerre non si devono fare. Su questo non ci sarà mai nessun compromesso da parte mia. Beh, direi grandi parole, grandi parole stasera da parte di Michele Santoro. Comunque sia un bellissimo intervento che spero di avervi raccontato nel migliore dei modi. E una piccola anticipazione di ciò che potrete rivedere poi nei canali di La Sette in streaming. Spero di esservi stato utile, di avervi fatto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti dei temi affrontati del dibattito che c'è stato or ora, in maniera tale che possiamo continuare poi a discuterne appunto nei commenti, quindi del video puntata sul mio canale YouTube Marco Puggini, al quale vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Vi invito ad ascoltare la mia musica. Ci ascoltiamo tra poco per altri grandi ospiti stasera e altre notizie qui a Radio Pugginio Nero.